Buongiorno e benvenuti nel mio canale di cucina. Oggi prepareremo un pollo all'arancia e miele. In un tegama o una ciotola capiente disponiamo 12 sobracosce di pollo. Dopodiché uniamo dello zenzero grattugiato, sale rosa, pepe nero e versiamo un cucchiaio di miele e poi aggiungiamo il succo di due arance spremute. Copriamo con la pellicola e lasciamo marinare per un paio d'ore. Dopo aver marinato il pollo andiamo a cuocere. In un tegama versiamo un generoso giro d'olio e rosoliamo il pollo a fuoco vivace. dopo aver rosolato il pollo aggiungiamo il succo della marinatura. Copriamo con il coperchio, ricocciamo per circa 50 minuti a fuoco medio. Circa 10 minuti prima della fine della cottura aggiungiamo la scorza di un'arancia, un cucchiaio di miele e lasciamo cuocere a fuoco vivace in modo che il sughetto si ristringa. Portiamo a cottura e poi impiattiamo. Grazie per aver visto il video, lasciate un commento se vi è piaciuto la ricetta e iscrivetevi al mio canale di cucina. condividete i miei video. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao da Gianni.